Bella ragazzi e benvenuti in questa recensione a caldo di Boruto, terza puntata Allora, prima di iniziare vi volevo dire una cosa inerente proprio a questa serie Allora, il primo video che è caricato di Boruto, quindi la prima puntata è andato molto bene, sono tante visualizzazioni, commenti e tutto e sono contentissimo, anzi a me piace, ma voi lo sapete che a me piace, io rispondo a tutti i commenti Il secondo video non si è inculato nessuno, la seconda puntata Non so se è un problema di feed di Youtube o del video che faceva cagare Dico feed di Youtube perché lo dicono tutti gli Youtuber grandi e loro lo dico anch'io Se è un problema di feed di Youtube o del video che faceva cagare Però se il video faceva cagare, forse sarebbe stato meglio scrivere, guarda il video fa cagare Magari la prossima volta fallo meglio, per dire Però non lo so, perché il primo è arrivato a 500 visualizzazioni e più Il secondo non è arrivato a 100, quindi non so se era la puntata Se era schifo, l'ho registrata male, io non lo so Ditemelo E ho pensato anche un'altra cosa, che se questo video farà schifo come il secondo Non credo che ve ne porterò altri o almeno non ve li porterò tutte le settimane Ma magari ve li porterò uno ogni mese, uno ogni due mesi, non lo so Comunque io continuerò a seguire la serie E poi piano piano, se ci sarà voglia, se c'era anche richiesta da voi, magari ve la porto Speriamo che vada bene e speriamo che i feed arrivino a tutti Vabbè, premettendo questo ragazzi, oggi la puntata devo dire che mi è piaciuta Mi è piaciuta, ci sono sempre dei misteri, ma è un mistero che non so ancora spiegarmi Ma comunque non mi interessa neanche più di tanto, è un mistero così così Vabbè, cominciamo La puntata ragazzi si chiama, devo leggerla perché non me la ricordo Una forza della natura Metal Lee Ok ragazzi, ogni puntata presentano diciamo un personaggio nuovo E in questa puntata hanno presentato Metal Lee Che sarebbe il figlio di Rock Lee e di... Lo so che sto dicendo una cazzata Ten Ten Sto dicendo una cazzata ragazzi Perché ho guardato, allora, io non ho guardato chi sono i figli Ho guardato su Google per le immagini di Metal Lee Ho guardato su Google e ho visto che comunque Metal Lee era insieme anche a Ten Ten Facciamo vedere che avevano gli stessi occhi Non lo so se è il figlio di Ten Ten Ditemi voi se è lei la madre Perché io non me ne sono informato Anche perché non mi piace informare Mi piace scoprirlo per i cazzi miei chi sono i genitori, più bello Inizia la puntata tranquillamente con il nostro carissimo insegnante Shino Che ci dice Shino... Eh sì, che ci dice Shino Che ci dice oggi faremo un'esercitazione con gli Shuriken E quindi tutti iniziano a lanciare gli Shuriken A lanciare gli Shuriken anche addosso a Shino Shino si sposta chiaramente Tutti colpiscono o non colpiscono il bersaglio Arriva Shikadai E datemi un secondo perché devo perdere come si chiama l'altro Perché mi dimentico Ecco, Inojin che sarebbe il figlio di Sai Shikadai e Inojin che in poche parole cosa fanno? Loro tirano praticamente all'unisono, quasi diciamo Lo Shuriken e colpiscono il centro senza nessun problema Arriva questo Metal Lee Che sembra tipo, non so, un personaggio tipo Mecha Naruto per dire Invece no, è Metal Lee un ragazzino Vabbè, vi avrò messo la foto, ve la metto adesso, non lo so Non mi piace come personaggio perché è uguale a Lee a parte i capelli che fanno cagare Vabbè, facciamo perdere E che fa? Lui fa tutto il figo Prepara gli Shuriken e li lancia due insieme Colpisce il centro, chiaramente molto molto bravo Perché si è esercitato sulle montagne Poi quando Inojin, Inojin, come cazzo? Vabbè, Eshikadai Gli dicono, wow, è bravo, è molto bravo anche lui Complimenti Lui li sente e si spaura un po' Prova a lanciare un altro Shuriken Ma vi faccio un esempio Qui è il bersaglio, qui è dove lui lancia lo Shuriken Lo Shuriken si ferma qui Cioè, proprio fa così Cioè, quando qualcuno gli dice delle cose Bravo, ce la vuoi fare Lui si innervosisce e quindi le cose non le riesce a fare Combina un disastro con la statua Con la rappresentazione di Naruto sul muro Perché sia lui che Boruto, che Shikadai Che tutta la combriccola Vanno ad aggiustare, diciamo La raffigurazione di Naruto sulla montagna Hanno quasi finito Quando gli dicono Dai, manca solamente Metal lì Allora lui è lì col bastone E sì, col bastone Col martello e lo scalpello Gli dà una botta un po' più forte Fa una crepa e cade giù metà faccia di Naruto Lui lì tutto spaventato Shikadai, mentre stanno tornando a casa Gli dice Senti, tu hai combinato L'offende Comunque è molto cattivo Cioè gli dice cose molto pesanti E lui ci rimane male e se ne va Praticamente Shikadai durante la notte ci pensa E dice Sì, forse ho esagerato Anche perché il suo padre gli ha spiegato una cosa E lui dice Sì, forse ho esagerato Domani gli chiederò scusa Ok, il giorno dopo Chiaramente Shikadai Il figlio Porca troia Come cazzo si chiama sto ragazzino Potremmo chiamarlo in altro modo Hinojin Hinojin Mi devo ricordare sto cazzo di nome Shikadai, Hinojin e Boruto stanno andando a scuola Quando Boruto vede che c'è anche Metal lì dietro Metal lì è bruttissimo Chiamiamo Metal Metal dietro Shikadai si gira E gli va incontro perché vuole scusarsi Chiaramente Metal lo vede E tipo va da un'altra parte Shikadai gli va dietro Metal comincia ad attaccare Shikadai E cos'è successo? Boruto ha visto Grazie all'occhio con il Byakugan Un'aura strana intorno a Shikadai Eh sì, scusate, intorno a Metal Se vi ricordate Quest'aura c'era stata anche nella prima puntata Quando c'era Denki Era la stessa aura Allora, cominciano a combattere di qua e di là Riescono in qualche modo Quindi unendo le loro forze Boruto, Hinojin e Shikadai A fermare per un istante Metal Grazie al controllo dell'ombra di Shikadai Però si incazza veramente tanto Avete presente quando Rock Lee diventava tutto rosso Che non gli si vedeva agli occhi? Ecco, quello lì succede E scatta Cioè, fa un salto in avanti Quindi si libera dal controllo dell'ombra Però Non so che cavolo è successo Sbaglia Fa un giro tondo e cade per terra Così E Laura, diciamo, gli va via E quindi è tornato, diciamo, normale Sotto No, sotto Non era più controllato Ma è tornato il Metal Pirla Che era sempre stato Non succede niente Tornano in classe E la puntata bene o male è finita Non succede niente di che A parte Naruto Ma perché dico sempre Naruto? Io tiro qualcosa addosso a Naruto Quando lo vede A parte Boruto Che quando torna a casa Vabbè, saluta la sorellina E la mamma gli chiede Mamma, ma tu con i tuoi occhi Puoi vedere tutto, no? Si chiama Byakugan La mamma gli dice Sì, io posso vedere il chakra E allora lui lì Comincia a farsi qualche domanda Perché riesce a vedere Solo lui Quest'aura Intorno a determinati personaggi Quando magari diventano aggressivi E quindi magari capisce Che il Byakugan Sta nascendo anche in Boruto Ed è una figata Però, devo dire A me questa storia dell'aura Di questa cosa Non mi piace Non mi piace per niente Non so il perché Non mi sembra Un nemico Se proprio dobbiamo Ammetterla così Perché vengono controllati E quindi diventano Tutti un po' più aggressivi Ma tutto qui Non mi interessa questa cosa Spererei che la mettessero Da parte più presto possibile O comunque che finisse Più presto possibile Vorrei che ci fosse proprio Un nemico nemico Anche se capisco Che è difficile Perché tutti i villaggi Sono amici Grazie a Naruto Grazie agli altri Okage Sì, gli altri Okage Gli altri Kage Ok Però un nemico Alla fine ci deve essere Se no che storia fai Ragazzi Il video finisce qui Se vi è piaciuto Come sentite un bel pollicione in su Se non vi è piaciuto Chiaramente pollicione in giù E bella Ditemi qua sotto Se c'è qualche problema Se arrivano i feed del video O il video fa cagare Ciao 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 Ciao